Sono Federico Sabatini, sono un docente di lingua e traduzione inglese presso l'Università di Torino, il Dipartimento di Cultura, Politica e Società. E con piacere sono qui a dirvi alcune parole circa il nostro Master in Progettazione, Comunicazione e Management del Turismo Culturale. Quest'anno ovviamente il turismo culturale e il turismo in generale è cambiato e quindi il Master in un certo senso deve anche soffermarsi su come l'emergenza Covid abbia cambiato radicalmente le abitudini di viaggio, il turismo culturale in generale e anche le sue professioni. In primo luogo è cambiata la comunicazione, è cambiata in maniera radicale, sono state introdotte nuove tecnologie, sono state migliorate le risorse, le piattaforme che già esistevano, quando però queste non erano in grado di far fronte alle nuove difficilissime esigenze. E dunque il Master sarà informato da quelle che sono le linee guida del Dipartimento di Etica, Cultura e Responsabilità Sociale emanate dalla Organizzazione Mondiale del Turismo. In modo particolare posso citare oggi una campagna social che ha avuto sicuramente molto successo, che è quella proprio legata al turismo culturale e quella campagna che aveva come hashtag Share Culture Today and Travel Tomorrow. Quindi condividiamo la cultura oggi al fine di trovare nuovi sviluppi, nuove possibilità per viaggiare in futuro in maniera sostenibile e in maniera responsabile. Dobbiamo infatti notare che mai, come in questo periodo, la cultura ha mostrato di essere a dir poco indispensabile. Si è visto questo dalla forte richiesta di accesso virtuale ai musei, ad esempio ai siti archeologici, ai teatri, alle performance di vario tipo. Quindi sicuramente, nonostante le difficoltà, per molti settori del turismo culturale in questo periodo ha anche significato un'opportunità per reinventare e diversificare la loro offerta. Il fine ultimo è quello di creare un turismo nuovo, flessibile, capace di adattarsi ai cambiamenti che questi nuovi scenari prevedono. Quindi anche il Master cercherà di rispondere a questi siti, a queste nuove possibilità, ma anche difficoltà in maniera costruttiva. Seguiremo un po' il motto latino per Aspera ad Astra, ossia cercheremo di studiare, di approfondire come si è cercato di sfruttare le difficoltà per arrivare a un reale miglioramento di servizi. Ecco, in questo senso una formazione specifica di figure professionali competenti e pronte a gestire anche queste nuove modalità che il settore richiede è l'obiettivo principale del Master, dell'offerta formativa che i vari corsi e i vari moduli cercheranno di raggiungere.